primo giorno di scuola come è stata rivedere compagni e professori si è stato bello rivederci finalmente in presenza e speriamo che insomma di rimanerci anche si era da tanto che non ci ritrovavamo tutti insieme è stato bello rivederci speriamo che possa durare la scuola in presenza i banchi sono ancora staccati pensavo fossero attaccati invece non abbiamo ancora i compagni non abbiamo la possibilità di toglierci la mascherina durante tutte le quattro le ore e la ricreazione dobbiamo tenercela anche durante la ricreazione l'emozione rivedere compagni e professori dopo un anno e mezzo dei dad si vera anche durante l'estate non è che ci siamo visti tanto e comunque sia stato bello sempre con la mascherina però va bene anche quello quello che auguri appunto di fare un anno appunto regolare senza interruzioni senza dad sì 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 che sia il più più normale possibile molto bello specialmente sì perché non c'è questa situazione della dad appunto e rivedere i miei compagni è una gioia molto dal cuore i miei bro la mia gente poi anche i professori per fortuna ci sono tutti quest'anno e molto bello sì sinceramente è stata una bella sensazione e era ora finalmente dopo diversi mesi di dad nei due anni precedenti e adesso tra vaccini tra misure precauzionali si sta un po combattendo tutto questo però i professori continuano a mantenere a incitarci a mantenere le misure di sicurezza e per combattere questo virus che ancora sta facendo diversi danni